Prima del fischio d'inizio, un abbraccio nel segno di solidarietà verso l'Emilia Romagna alluvionata. Si è aperta così la sfida comunale tra l'Arezzo Calcio Femminile e il Ravenna Woman. Non è facile per nessuno andare in giro nel fango, perché poi si acqua, fango, mobili, case, macchine, motori, animali. E' un vero disagio allucinante ed è tutto marrone e verde. Tutte le ragazze a Maranto sono entrate in campo con una maglia speciale per l'Emilia Romagna. Grazie alla quale si possono raccogliere dei fondi, quindi noi abbiamo contribuito facendo l'acquisto per tutta la squadra e promuovendo questa iniziativa. Mi sembrava giusto e doveroso farlo, perché lo sport a volte dà anche un minimo di sollievo in questi momenti di grandissima tristezza. La partita all'ultima di campionato tra le mura amiche del città di Arezzo si è conclusa in parità. Al gol di Elisa Mariani al 74esimo ha risposto Gnisci al 92esimo. Ci tenevo particolarmente per le ragazze, ci tenevo per la società, ci tenevo per tutte a chiudere questo campionato cercando di far più punti possibile e perlomeno chiudere l'ultima partita di questa stagione per l'Arezzo in casa nel miglior modo possibile. Le ragazze hanno fatto una buona partita, non era facile, comunque se abbiamo giocato di martedì non eravamo abituati, siamo stati un po' fermi. Tante motivazioni, però alla fine le ragazze hanno fatto la gara, abbiamo subito praticamente niente, a parte quel calcio di rigore, poi abbiamo fatto anche un bel gol e credo che alla fine bisogna essere contenti di questa stagione per questo grande risultato finale e per questo risultato anche di oggi che alla fine ci ha portato a 30 punti e credo che sia alla fine dei conti un risultato importante. Le Amaranto sono già certe della permanenza in Serie B da due turni, la stagione si chiuderà domenica 28 maggio sul campo della Lazio, formazione ancora in corsa per il primato. Un bilancio comunque positivo per noi perché è una categoria tutta da scoprire e devo dire che la Serie B ha dimostrato di essere veramente una categoria importante e siamo consapevoli di un qualcosa che ci permetterà di fare meglio il prossimo anno.